Il Signore consola con la sua tenerezza, lo ha detto il Papa nell'Omelia della Messa del Mattino. Quando un cristiano dimentica la speranza o, peggio, perde la speranza, la sua vita non ha senso. E' come se la sua vita fosse davanti a un muro. Niente. Ma il Signore ci consolla e ci rifà con la speranza di andare avanti. E anche lo fa con una vicinanza speciale a ognuno. Perché il Signore consola il suo popolo e consola ognuno di noi. Bello come il brano d'oggi. Finisce come un pastore e gli fa pascolare i greci e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Quell'immagine di portare l'angellini sul petto e portare dolcemente le madri. Questa è la tenerezza. Signore ci consola con tenerezza.